Come sapete, il Ministro oggi è impegnato in Parlamento e quindi questo era il motivo per cui avevano rinviato l'incontro. Visto la presenza numerosa, abbiamo avuto la gentilezza di incontrarci comunque con un collaboratore del Ministro, al quale ovviamente abbiamo raccontato quali sono le nostre posizioni e lasciato i nostri documenti, sia sulle questioni che riguardano l'intero settore, le criticità, sia la vicenda più recente di Timber. L'impegno del Governo è quello di procedere ad una nuova convocazione entro il mese di dicembre. Ci auguriamo che l'impegno venga mantenuto e che questi pochi giorni che ci separano in realtà poi dal mese di dicembre possano essere utilizzati per fare un po' più di chiarezza su un scenario che davvero rischia di complicare la vita a molti, a molti lavoratori ma anche allo stesso Paese che nel momento in cui non mette in ordine un settore come quello delle TLC rischia gravemente di vedere compromesse una parte delle possibilità di sviluppo e di crescita del Paese stesso. L'abbiamo rappresentato il Governo, abbiamo l'impressione che almeno i titoli siano stati compresi, vediamo se lo svolgimento, vedremo le prossime settimane, se lo svolgimento è all'altezza. Ovviamente dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di iniziativa.